Un convegno che parla di futuro appisa intanto perché l'amministrazione ha deciso di intervenire su questo argomento, di cosa c'è bisogno? Sicuramente l'ippodromo di San Rossore è uno dei più importanti a livello italiano. L'amministrazione ha deciso di intervenire, in questo ringrazio il consigliere Lazzeri che si è tanto prodigato affinché oggi ci fosse questo importante convegno alla presenza di politici e autorità ippiche di carattere nazionale proprio per cercare di portare sotto la lente di ingrandimento una grande criticità. L'ippico ormai è in crisi da almeno 20 anni, sono 20 anni che la politica fa poco o niente per questo settore e in questi anni si è probabilmente anche peggiorato la situazione perché pensiamo che in passato esisteva un ente che si occupava di questo che era l'Unione Nazionale dell'Incremento delle Azzequine che poi per una serie di vicissitudini è stato sciolto ed è stato dato ai ministeri la competenza andando a peggiorare ulteriormente la questione. Siccome l'ippica poi è uno sport ma è sicuramente un'attività economica importante in questa città come la nostra che ha una tradizione ippica fin dalla metà dell'Ottocento che addirittura affonda le radici ancora prima, fa capire quanto questa grande crisi abbia poi determinato a livello economico un impatto sulla economia cittadina. Abbiamo la responsabilità in questo momento governando la città di Pisa dove appunto c'è uno degli ipodini più grandi d'Italia di cercare di fare sì che la politica nazionale si occupi del settore. Non è che vadano dare tre prebende o bisogna buttare risorse a fondo perduto dobbiamo soltanto riorganizzare la filiera ippica. Quindi da qui l'idea potrebbe essere quella di rimettere in piedi una sorta di unire ricostituendo una struttura dedicata per far sì che il sistema degli allevatori, degli allenatori e di tutto quello che gira intorno possa trovare un'interlocuzione veloce per il pagamento per esempio dei premi. I premi vengono pagati con forte ritardo con gravi problemi di carattere economico. Negli ultimi dieci anni sono chiusi tantissimi allevamenti e il sistema è sicuramente stato messo in crisi con una perdita di posti di lavoro e di volumi economici. Un convegno che parla di futuro ma anche di presente, un presente in cui occorrerà prendere delle scelte per condizionare quel futuro in maniera positiva per un settore che ne ha davvero molto bisogno. Purtroppo sì, diciamo che dal 2013 il trend italiano dell'Ippica italiana è un trend incostante e progressivo purtroppo, impoverimento culturale, impoverimento di risorse e quant'altro. Questo dispiace molto perché in un momento come questo, dove a livello mondiale l'Ippica sta decollando e soprattutto nei paesi nelle nuove economie emergenti, sta prendendo piede il settore Ippico, da noi anziché valorizzare una produzione che ci potrebbe anche fare entrare in un mercato globale, noi non siamo nemmeno più riconosciuti all'estero come entità che possono partecipare a quella che è la competizione internazionale. Questo è assolutamente disdicevole. Diciamo che è un problema anche di lavoro. Lo Stato ha uno dei compiti principali, è quello di tutelare da Costituzione il lavoro. Dal 2013 ad oggi si sono persi almeno 25 mila posti di lavoro. E questo è un qualcosa che, questa tendenza, questo trend deve essere stoppato e anzi, e ci sono secondo noi le possibilità, invertito e rifare rinascere un settore che potrebbe avere grandi, ma grandi potenzialità. L'obiettivo di questa giornata è stato quello di far partecipare tutta una serie di relatori che si badi bene non sono portatori di interesse, ma sono appassionati, esperti del settore che con i loro contributi dessero come delle linee guida da poter seguire in una futura riforma dell'Ippica. Al fine di questo convegno esprimeranno la loro opinione le autorità politiche intervenute, avremo senatori, avremo deputati, e lo scopo è quello di redare un, chiamiamolo, libro bianco sul quale verranno praticamente registrati tutti gli atti che sono emersi in sede di convegno. E questo libro bianco, vista la gravità soprattutto della situazione occupazionale, verrà mandato alle due principali figure dello Stato, al futuro Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in maniera tale che prendano contezza, che abbiano contezza di quello che sta succedendo e se riterranno opportuno intervengano personalmente nella risoluzione dei problemi che ora ci stanno attanagliando. In questo momento ci sono alcuni problemi per gli allevatori, difficoltà certamente, che cosa si può fare, perché la politica dovrebbe interessarsi di questo settore e qual è il vantaggio, che cosa ci guadagna la società? Allora diciamo che l'allevamento del puro sangue è stato per questa terra soprattutto una grande possibilità di sviluppo, una grande possibilità di crescita anche dell'indotto agricolo. Credo che negli ultimi vent'anni ci sia stata dell'indifferenza da parte della grande politica nazionale e si sia poco considerato l'allevamento italiano. Si consideri che l'allevamento d'Italia ha creato, nonostante le grandi difficoltà, negli ultimi vent'anni dei cavalli importanti a livello mondiale, dall'Ectropulsionist a Falbrav a Beauty Only. E nonostante la situazione attuale di grande debolezza, la passione dei giovani per l'allevamento c'è ancora. Ci aspettiamo che anche dopo questo convegno ci sia un cambio di passo verso questa indifferenza che la politica in passato ha dimostrato verso l'allevamento. Dobbiamo essere onesti e sinceri e dire che nelle ultime settimane, con un piccolo cambio di passo strategico, il sottosegretario Battistoni ha attivato dei meccanismi che possono dare all'allevamento di nuovo degli interlocutori politici in grado di cambiare le sorti di questo settore. Io mi auguro che per noi giovani ci sia possibilità di poter continuare ad allevare in Italia e crescere in maniera continua perché al momento siamo arrivati veramente in basso. L'allevamento italiano oggi non è più in grado di esprimere dei soggetti che fanno la differenza all'estero, ma non tanto per mancanza di passione, mancanza di investimenti, ma per mancanza di strategia di base da parte proprio del sistema Italia. Io spero tanto che in poco tempo si riesca a cambiare qualcosa. Allora, considerate che attualmente siamo al minimo storico, arriviamo all'incirca sui 600 nati, tra nati in Italia e nati all'estero e rinazionalizzati. Siamo a meno della metà dei nati nel 2010 e servirebbe un incremento rispetto a questa emorragia dei nati. Però, ripeto, negli ultimi due anni ci sono tanti giovani allevatori, tanti giovani che si avvicinano al mondo dell'allevamento e c'è la possibilità di crescere di nuovo. Io credo che la possibilità di crescere c'è e io credo che anche copiando o comunque imparando da paesi vicino a noi come la Germania, che con 800 nati fanno comunque degli ottimi risultati, si possa in maniera molto veloce riuscire a tornare a dei livelli buoni. Senatore, le rivolgo alla stessa domanda che sto facendo anche ad altri protagonisti di questa giornata, di questa mattinata. Un convegno che si occupa di futuro, quale futuro per l'Ippica, ma inevitabilmente si deve partire dal presente per un'analisi capace di determinare le scelte che riguarderanno quel futuro. Pienamente hai ragione. Innanzitutto bisogna analizzare il presente. Quindi questo convegno va proprio in questa direzione perché oggi dobbiamo partire da un confronto con tutti gli operatori di questo settore che è importante. È un settore purtroppo che a causa di scelte politiche a mio avviso sbagliate, che partano già dall'abolizione dell'Unire, poi che è stato il passaggio dell'Assi, poi le competenze del Ministero dell'Agricoltura, poi il monopolio delle dogane che ha preso in carico tutte le scommesse, ha di fatto messo in difficoltà questo settore. Oggi la politica ha il dovere di riprendere in mano questa situazione per cercare di compensarla, perché il settore dell'Ippico è una cosa importantissima perché rappresenta anche un'eccellenza italiana per il tipo di allevamento, per il tipo di strutture che abbiamo. Quindi dobbiamo rimetterci le mani. Io ho presentato un disegno di legge che in questo momento è in discussione in Commissione Agricoltura al Senato che parte proprio da una ristrutturazione di tutto il sistema e ritorna alla costituzione di un'agenzia indipendente dell'Ippica. Purtroppo anche con l'approvazione dell'ultima finanziaria abbiamo dovuto registrare una diminuzione delle risorse per questo settore. Ci siamo battuti anche in Commissione Agricoltura all'interno dell'Aula per cercare di compensare questa cosa, ma non ci è riuscita. Questa significa che c'è una poca attenzione da parte del Governo. Oggi anche questo convegno deve servire affinché ci siano questa attenzione che merita il settore. Quali sono le necessità del settore Ippica? e poi anche una valutazione sul convegno che si sta svolgendo in questo momento a Pisa, uno dei principali centri nazionali. Allora, intanto rispetto alla prima domanda credo occorra una strategia, una strategia nazionale che prenda atto della storicità di questa grande realtà del mondo dell'equitazione e dell'Ippica in particolare che è un settore strategico. Dobbiamo renderci conto che dietro a questo mondo ruota anche una serie di conoscenze che si sono tramandate per secoli. Qui oggi è presente ad esempio un rappresentante della mascalcia, un settore importantissimo per garantire la salute del cavallo e l'operatività del cavallo. In questo senso, purtroppo, in questo convegno, per cui ringrazio il Comune di Pisa dell'invito pervenutomi. Oggi sono stato delegato anche dai colleghi della Commissione Agricoltura che non sono potuti essere presenti. dobbiamo reagire ad un immobilismo che per troppo tempo si è prolungato su questa grande realtà che sta pregiudicando la stessa prosecuzione e la vita del mondo dell'equitazione e dell'Ippica perché le due cose sono spesso concatenate. Soffriamo, ad esempio, la carente partecipazione di pubblico. Non c'è una politica per avvicinare i giovani a questa grande realtà che è una realtà di formazione, è una realtà anche di crescita in un mondo che ha delle regole che sono delle regole anche di galateo, sono delle regole di formazione e di professionalità. Questo credo sia la necessità per cui la politica oggi deve aprire le orecchie, prendere una posizione chiara e netta e avere un programma strategico per questo settore.